La vita in uno scatto, 55 anni di emozioni, racchiuse in una mostra fotografica ospitata dallo storico Cursal Santa Lucia di Bari, inaugurata antologica, raccolta di foto scattate dal professor Vincenzo Lattanzio. Un viaggio tra danza e teatro, passando per la moda, e il viaggio senza però dimenticare gli eventi che hanno segnato la storia. Il più significativo, raccontato dalle foto di Lattanzio, è l'invasione russa a Praga del 1968. Dovrebbero aspettarsi di vedere, per esempio, qualche pagina di storia, perché senza che io l'abbia voluto, anzi avrei voluto non viverlo, sono stato un testimone dell'invasione russa a Praga e quindi anche questo è un altro di quegli aspetti che credo rendono interessante questa manifestazione. Un Cursal Santa Lucia Gremito ha ascoltato l'intervento del professor Lattanzio, affiancato dal giornalista Francesco Giorgino e dalla storica dell'arte Christine Fares Perken. La passione per la fotografia è nata quasi per caso fin dai primi anni della sua adolescenza. Io credo di averla avuta da molto molto presto. Era l'epoca delle paghette, cioè i 17-18 anni, e io mi sono reso conto che queste paghette sparivano tutte nel comprare riviste di fotografia.